il mondo di hello kitty ciao kitty ciao a te mi dispiace che le vacanze siano finite hello kitty ah non ti preoccupare amo andare a scuola per studiare con gli amici è divertente vero è proprio bello qual è la tua materia preferita a scuola hello kitty le mie preferite sono italiano musica e disegno ma tra queste qual è la tua preferita ma le amo tutte non posso scegliere è ora di entrare hello kitty amo imparare cose nuove buona giornata a scuola hello kitty ciao ciao ciao